Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma 34esimo ed ultimo atto della regular season si affrontano Trastevere e Matese il centrale di difesa Proia allarga verso sinistra si muove Andrea Santilli che va a sfidare Siska uno contro uno Saltato Siska attenzione a Santilli in area di rigore il sinistro in mezzo non c'è nessuno a rimorchio Arriva adesso la conclusione con deviazione un altro tiro Tribelli pallone profondo Pasqualoni mette giù col petto e poi va a lanciare profondo dove si muove Giordano Fioretti Che va a duello anche lui con Siska e prova a superarlo entra in area di rigore Fioretti Mancino la risposta di Martino con Ricciardi a dar fastidio allora Giordani passa la sfera raccolta da Macri In area di rigore cercato il suggerimento ancora Macri col pallone tra i piedi vuole andare a concludere C'è deviazione poi il colpo di testa anticipare anche Crescenzo Mancino profondo la posizione dovrebbe essere regolare attenzione all'attacco in area di rigore di Napoletano Che poi si gira porta il pallone vuole liberare il destro va Napoletano tiro forte ma fuori Punta il secondo ma deve appoggiarsi all'indietro da Calderoni largo Macri vuole andare forse a calciare Va Macri col Mancino pallone di poco fuori Largo a destra Grazian Siska attaccato da Santilli perde il pallone c'è Crescenzo la sposta Crescenzo Vuole andare a calciare lo fa il palo e poi Santilli anticipato clamorosa occasione per il Trastevere In seguito da Daniele Napoletano allora il lancio lungo c'è Macri il controllo è l'uno contro uno con Albanese Davide Macri si gira cerca il cross c'è Fioretti la spizzata che per poco non porta avanti il Trastevere Arriva il fischio la finta di Proia allora Crescenzo cross in area di rigore colpo di testa doppio Martino con i pugni Poi Macri ancora un salvataggio sulla riga movimento di Fioretti che appoggia per Crescenzo c'è largo Macri Si sovrappone Cervoni servito arriva il cross Fioretti ha tentato il colpo di tacco pallone allontanato ma non è finita Crescenzo Proia al volo Martino se la ritrova ancora però sui piedi di Gabriele Cervoni e Trastevere che resta in zona d'attacco Crescenzo Macri cercato Fioretti area di rigore posizione regolare tiro alto però Tutta la punizione Congiul la spedisce lontano Santilli Proia Crescenzo sulla tre quarti finta il tiro poi va da Fioretti vuole provarci Fioretti traversa clamorosa Si vanno a piazzare in area tutti i saltatori del Trastevere sono saliti anche Pasqualoni e Giordani Il pallone arriva colpo di testa che finisce in gol Fioretti la sblocca il Trastevere al centro dell'area La mette in porta il numero 9 200 gol in carriera per Giordano Fioretti Aggressivo in campo ma con la giusta intensità Si gioca con Tribelli che va all'uno contro uno Mette il cross Pallone raccolto in area di rigore Il destro in porta di Galesio che pareggia i conti Proprio alla metà della seconda frazione Allora uno a uno Vediamo se vuole batterla lunga perché tutti i compagni sono nell'area di rigore Infatti battuta lunga verso D'Alessandro Attenzione la sfera rimane lì e viene messa in porta da Galesio Doppietta allora per il numero 9 vantaggio del Matese Poi prova a cazzo non arriva il fischio del direttore di gara Ancora Calderoni che strappa il possesso Mette dentro verso Fioretti in area di rigore Martino il miracolo Poi il tentativo e la rete di Corsetti Pareggia subito il Trastevere 2 a 2 Arriva adesso Triplice fischio finale gara il sipario al Trastevere Stadium 2 a 2 tra Trastevere e Matese Ma Trastevere che può sorridere guadagnando il secondo posto in classifica Ma Trastevere che può sorridere guadagnando il secondo posto in classifica